Ciao a tutti amici di AudioFader. È novembre e come tutti gli utenti Steinberg stanno bene, questo è il periodo dell'anno in cui comunemente viene presentata la nuova versione di Cubase. Il 2020 non ha fatto eccezione, quindi eccoci a parlare di Cubase 11. Abbiamo avuto la fortuna di averlo in prova qualche giorno prima rispetto al lancio ufficiale, quindi quando verrà presentato troverete subito l'articolo di presentazione con i nostri primi commenti e le nostre prime impressioni sui canali di AudioFader. Abbiamo voluto anche però realizzare un video che non sarà un tutorial per quelli che ci sarà spazio in futuro, ma sarà una via di mezzo tra un unboxing e una presentazione generale del software. Quindi siete pronti a scoprire Cubase 11? Andiamo! Prima di andare a testare Cubase 11, che comunque vedete qua aperto sullo sfondo, voglio mostrarvi la nuova procedura di installazione. Abbiamo qua aperto lo Steinberg Download Assistant e abbiamo selezionato Cubase Pro 10.5, ovvero sia la penultima versione. Vedete che la dimensione dell'installer è molto importante, siamo quasi a 22 giga. Ovviamente in alcuni casi questo può generare problemi. Con Cubase 11, versione Pro o anche nelle altre versioni, Steinberg ha scelto di seguire una strada completamente diversa. Ha spacchettato il contenuto nella singola applicazione core, quindi in Cubase, negli strumenti virtuali editor aggiuntivi, quindi Spectralayers, Alien Sonic, Groove Agent, Retrologue, Padshop e così via, e soprattutto ha scorporato le libriere sonore. Quindi vediamo qua Analog Techno, Blockbuster, Calidoscope, espansioni legate ai loop di batteria e quant'altro. In questo modo possiamo scaricare solamente i materiali che realmente ci interessano, evitando download di Ores, non abbiamo una connessione molto veloce, e soprattutto evitando poi di occupare inutilmente spazio sull'hard disk. Come scritto nell'articolo, probabilmente una delle features più importanti e che saranno più apprezzate di Cubase 11 è la coda di esportazione. Andiamo su File, Esporta, Mixdown Audio, e vediamo che è comparsa questa sezione Esporta la coda, questo menu a tendina Effetti, e quindi qualcosa di importante è cambiato. Chiudendo la sezione Esporta la coda potremo continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, ma tramite la coda di esportazione potremo invece elencare una serie di esportazioni e poi farle eseguire a Cubase automaticamente una di seguito all'altra. coda. Scegliamo ad esempio FileWave 48K24bit dello stereo out e aggiungiamo la coda. Ipotizziamo di voler anche esportare la versione MP3. Scegliamo MP3, lasciamo le stesse tracce selezionate, ovvero sia il bus d'uscita principale, e aggiungiamo la coda. Ipotizziamo adesso di voler esportare da sola la traccia di chitarra elettrica in Wave e stavolta in Mono, e aggiungiamo la coda. Scegliamo il percorso di destinazione, settiamo il nome, come siamo già abituati a fare in Cubase, qua tra l'altro abbiamo la nuova voce Testo Libro che può essere personalizzato, e clicchiamo via l'esportazione. Come vedete non bisogna più fare un'esportazione per volta modificando tra un'esportazione e altri parametri, ma si possono elencare tutte le esportazioni che si vogliono fare e poi lasciare lavorare Cubase. In particolare quando si lavora con gli Stem, questo può essere un aiuto prezioso che permetterà di risparmiare sicuramente tempo. Cubase 11 ha visto anche dei cambiamenti importanti sull'editor dei tasti, ovvero sia il principale editor MIDI. Creiamo una traccia MIDI, annulliamo l'assegnazione in uscita in modo che per adesso non suoni nulla. Una prima differenza piccola ma che può rivelarsi particolarmente utile è velocizzare il lavoro, è che adesso quando lo strumento seleziona oggetto, facendo doppio clic su una nota, questa viene cancellata. Grandi novità sono presenti poi nell'area dei controlli, nella corsia dei controller. Andiamo a selezionare Pitch Band e vediamo che adesso abbiamo la possibilità di visualizzare la griglia dei semitoni. Diamo un intervallo di Pitch Band verso l'alto e verso il basso, questi due intervalli possono essere collegati o scollegati, per ora lasciamoli collegati. Diamo ad esempio quattro semitoni verso l'alto e quindi quattro semitoni verso il basso e avremo una griglia di riferimento che ci permetterà di disegnare il Pitch Band in modo preciso e con un riferimento sicuro. Ovviamente questi saranno effettivamente semitoni solamente se poi anche nello strumento virtuale utilizzato o collegato il Pitch Band sarà settato a più o meno quattro semitoni, altrimenti poi ci serve una discrepanza tra lo strumento virtuale e la griglia all'interno dell'editor dei tasti. Vediamo poi qui che abbiamo anche la possibilità di fissare lo snap, un agganciamento che funziona in modo analogo all'agganciamento che si ha nella griglia di quantizzazione. Se adesso prendo la matita di disegno vediamo che il Pitch Band salta da un valore all'altro della griglia. Cosa interessante, ulteriormente interessante, è che possiamo scegliere adesso di scrivere i controller tramite gradino o rampa. Questo vale all'interno del Pitch Band come vale nell'after touch, nei control change e così via. Quindi se scriviamo per rampe avremo un tipo di inserimento dati che è sostanzialmente uguale a quello che si ha con le automazioni. Oltretutto poi potremo andare a ferrare questa maniglia centrale e generare delle curve. Abbiamo visto poi adesso che inserendo delle rampe comunque se l'agganciamento è attivato la rampa va ad agganciarsi alle linee di intonazione esatta del Pitch Band, cosa questa è estremamente comoda. Andiamo adesso ad aggiungere altre corsie, ad esempio l'after touch e un control change. Una cosa che in passato era piuttosto macchinosa in Cubase era spostare delle scritture relative ai controlli da una corsia all'altra. Scriviamo ad esempio mano libera una parte sull'after touch. Adesso basterà selezionare questa parte, potremo farlo semplicemente con un riquadro di selezione oppure cliccando sulla voce after touch e poi seleziona tutti gli eventi sulla corsia, qualora volessimo selezionarli tutti, altrimenti ovviamente bisognerebbe effettuare una selezione manuale. Clicchiamo Copia, clicchiamo adesso su Modulation e possiamo incollare o incollare all'origine. Incolliamo l'origine ed ecco che la curva disegnata per l'after touch è riproposta esattamente identica anche sul Modulation, un modo quindi di lavorare molto più veloce e che sicuramente verrà apprezzato da chi lavora molto col MIDI. All'interno dell'editor dei tasti è poi possibile adesso visualizzare le tracce globali, quindi ad esempio traccia marker, traccia video, traccia righello, traccia tempo, traccia trasposizione e così via. Di questo ad ogni modo si è parlato all'interno dell'articolo e quindi soprassediamo in questa sede. Una cosa di cui non si è parlato nell'articolo invece è il nuovo compressore Squasher che permette una compressione multibanda, superbande diverse, upward e downward. Tutti siamo abituati ad avere un compressore che comprime verso il basso, quindi schiazza il segnale quando questo cede una certa soglia e in questo caso si parla di compressore downward, ma c'è anche la possibilità di comprimere un segnale, quindi ridurre la gamma dinamica con un processamento di tipo upward, ovvero si alza il livello del segnale quando questo è sotto una certa soglia. In fin dei conti a specchio è un po' la stessa cosa, quindi se si alza il segnale quando questo è sotto una certa soglia o si abbassa il segnale quando supera una certa soglia, il risultato è sempre quello di ottenere a livello dinamico maggiore uniformità. Qui abbiamo tre bande, abbiamo la possibilità di impostare attack, release, drive, quindi distruzione per ogni singola banda e anche un gate con un livello in decibel full scale al di sotto del quale il segnale viene truncato. Già di per sé sarebbe interessante per un processore di questo tipo, andiamo ad ascoltarlo sulla traccia di chitaria elettrica che volutamente è particolarmente dinamica. Spegniamo il processore. Ok, torniamo ora all'inizio di questa parte, attiviamo il compressore e sentiamo cosa succede. Sarà interessante osservare il meter della compressione verso il basso che verrà visualizzata in quest'area e di quella verso l'alto, quindi qua il segnale viene abbassato e di qua invece il segnale viene alzato. Abbiamo ovviamente due threshold diversi per la compressione downward e per quella upward. Abbiamo la possibilità di regolare il livello di compressione upward e downward. Ascoltiamo. Al prossimo episodio Avendo tre bande separate abbiamo anche un comportamento diverso a seconda della banda. Nella banda 1, quella che va fino ai 100 Hz, lavorava quasi sempre l'upward compression. Nella banda 2 invece, quella dove si concentra gran parte dell'energia della parte di chitarra che abbiamo ascoltato, lavorava soprattutto la compressione verso il basso. Nelle parti invece dinamicamente più controllate, anche nella banda centrale si vedeva l'attività della upward compression. Ovviamente questo tipo di compressione, poi in questo caso settata in modo piuttosto evidente, rischia di portare in evidenza il rumore di fondo, ma questo d'altra parte è un comportamento prevedibile e normale per un compressore. Dicevamo che se già si fosse trattato di questo sarebbe stata un'aggiunta interessante e positiva ad avere a disposizione all'interno del pacchetto di Cubase. Ma in più abbiamo il sidechain, che possiamo attivare come usuale. Oltretutto Cubase 11 ha introdotto la possibilità di supporto di sidechain multipli, quindi non avremo più solamente una sorgente in ingresso nel processore in sidechain, ma potremmo averne più di una. Nello specifico Squasher accoglie, può accogliere, fino a tre sorgenti distinte in sidechain. Per vedere un esempio delle potenzialità che si hanno nell'utilizzo di sidechain multipli, abbandoniamo il nostro fraseggio di chitaria elettrica, chiudiamo anche Squasher nella distanza applicata appunto a chitaria elettrica, possiamo eliminarci questa traccia e concentriamoci invece sulla traccia Atmo 12. Anche qui vedete che ho inserito Squasher, lo metto in standby momentanamente per ascoltare il contenuto della traccia senza processamento. Si tratta fondamentalmente di un drone, di un suono tenuto che si evolve nel tempo ma che è sostanzialmente costante. Ho poi aggiunto una traccia di kick, ascoltiamola adesso alzando del volume. Ora riporto la traccia di kick con volume a zero, poi capiremo meglio perché. È una traccia percussiva, anche in questo caso adesso a zero, rialzo il volume. Ascoltiamola. Per cui ho messo in mute queste due tracce? Perché voglio utilizzarle, quantomeno inizialmente per mostrarvi il funzionamento di Squasher, come sorgente pilota inside the chain. Direttivo Squasher e vediamo che qua nelle impostazioni di assegnazione del side chain abbiamo a disposizione ben tre ingressi diversi inside the chain che possono essere gestiti direttamente all'interno del plugin senza passare dalle mandate ma questa comunque non è una novità. Se clicco qui vedo che il side chain 2 è il kick e il side chain 3 è invece già impostato su questo suono percussivo. La mandata che viene da kick e da percussioni è in post failure, quindi ho potuto abbassare completamente il livello della traccia mantenendo comunque la mandata attiva e funzionante. A questo punto ho selezionato per la banda 2, quindi quella centrale, l'ingresso side chain 2 per il funzionamento della banda di compressione. Ho scelto che il side chain controllasse Squasher e quindi in generale la compressione, ho impostato una frequenza centrale del side chain, del filtro del side chain su 36 Hz e poi qua Q è la campanatura dell'equalizzazione utilizzata in side chain. Per quanto riguarda la banda 3 invece ho scelto una frequenza di 87 Hz che controlla però il gate. In altre parole cosa succederà? Il segnale nella seconda banda verrà compresso verso il basso verso l'alto in base a quello che succede nel segnale di controllo che è il kick. La banda 3 invece verrà resa udibile o non udibile, quindi il gate si aprirà o si chiuderà in base a quello che succede nel side chain 3 che prende segnale dalla traccia numero 3 di percussioni. Andiamo ad ascoltare l'effetto. Innanzitutto senza Squasher attivo e poi attivando Squasher. Si ottengono possibilità di manipolazione, di sound design e di elaborazione, manipolazione e disegno del suono molto molto interessanti. Qua sentivamo la banda centrale che si alzava gradualmente di volume quando in sostanza finivano i colpi di cassa e veniva invece compressa quando i colpi di cassa erano presenti. Per quanto riguarda la banda 3 invece si aveva un suono intermittente che entrava e usciva quindi siamo partiti da un drone a qualcosa di molto statico che si evolve nel tempo ma allo stesso tempo si mantiene fortemente coerente con se stesso e sicuramente non ha una strutturazione ritmica interna a un qualcosa invece di molto più movimentato, molto più interessante, quantomeno per certi utilizzi. Come abbiamo fatto a capire che la frequenza centrale ottimale per la cassa era 36 Hz e quella per la traccia percussiva 87? Abbiamo utilizzato sulla traccia percussiva e sul kick un nuovo plugin sempre di Cubase 11 che è Supervision. Supervision è estremamente interessante, permette di visualizzare un'analisi del suono basata su tutta una serie di parametri in particolare qua vediamo livello quindi decibel full scale, loudness, composizione spettrale, rapporti di fase, ambito spazializzazione quindi sul surround o su ambisonics, oscilloscopio, wavescope, il tempo. Tutto fatto molto molto bene, molto definito. Grazie a Supervision abbiamo potuto quindi vedere nel kick il livello che raggiunge il kick abbiamo potuto anche vedere qual era la frequenza di interesse. tra l'altro qua vediamo l'analisi sulle basse stereo ma possiamo anche scegliere di sommare i canali in questo caso essendo un kick ha sicuramente più senso avere un grafico unico anziché due grafici sovrapposti. Ed ecco qua i nostri 38 Hz di cui si è parlato anzi qua vengono messi in evidenza 38 avevamo impostato 36 ma in un attimo possiamo passare a 38 per avere un'indicazione di precisa. Il supporto al side design multipli c'è anche in frequency l'equalizzatore di Cubase che già era un equalizzatore eccellente ma che adesso ha aggiunto la possibilità di funzionare in modalità dinamica. quindi scriviamo frequency ed ecco qua frequency 2 vedete che in ogni banda è possibile adesso attivare la modalità dinamica e poi aprendo il pannello di controllo abbiamo a disposizione tutti i parametri necessari a farlo funzionare dinamicamente ovvero sia a reagire a un segnale quindi a equalizzare di conseguenza quanto viene registrato viene osservato nel segnale pilota. questo segnale pilota può essere lo stesso segnale che viene equalizzato o in modo analogo a quanto visto prima con squasher può provenire da un side chain non solamente da uno ma da più side chain in questo caso abbiamo fino a 8 side chain diversi perché? perché abbiamo 8 bande di equalizzazione. Altra novità importante è la nuova traccia campionatore nuova o meglio l'evoluzione insomma della traccia campionatore vediamo in particolare che adesso trasciniamo qua la nostra parte di chitarra elettrica che abbiamo ora la possibilità di creare degli slice basati come in questo caso sugli hit point oppure scegliere la griglia transiente griglia oppure suddividere manualmente gli slice che poi sono collegati ai diversi tasti del controller MIDI alle diverse note MIDI insomma si aggiungono potenzialità alla traccia campionatore che già di potenzialità ne va parecchie ma adesso diventa ancora più interessante tra l'altro vediamo qui che abbiamo due LFO che possono controllare il pitch il filtro e l'amplificazione finale tra l'altro l'LFO sul modulo AMP può essere relativo al volume o relativo al panning quindi ancora più possibilità per interventi creativi ci sarebbe molto altro da dire su Cubase 11 in questo video soprattutto abbiamo voluto darvi un assaggio anche visivo e sonoro di quello che propone la nuova DAW di Steinberg oltre ad avere la possibilità di mostrarvi magari alcuni punti comunque interessanti di Cubase che non sono stati approfonditi nell'articolo all'articolo però vi rimandiamo l'articolo che trovate sui canali di Audio Fader per avere una presentazione generale più ampia e articolata di Cubase nell'ultima versione in generale Cubase ha riservato molta attenzione con questa versione 11 sia al momento della produzione sia al momento del mix e del mastering forse con la bilancia che pende leggermente dal lato della produzione chi già utilizzava Cubase in tandem con WaveLab sicuramente sentiva la mancanza di alcuni strumenti che sono stati introdotti in Cubase 11 e sto parlando prima di tutto dell'equalizzatore multibanda dinamico che sicuramente è fondamentale in fase di mastering e questo è il motivo per cui c'è storicamente in WaveLab ma può anche essere molto molto utile in fase di mixing o comunque di gestione creativa dei materiali, di sound design stesso discorso vale per l'emager un plugin che adesso non l'abbiamo visto in questo video ma che permette sempre con suddivisione multibanda di gestire l'apertura stereofonica dei materiali audio e soprattutto c'è stato in Cubase 11 l'introduzione di supervision con tutti gli strumenti di analisi in precedenza in Cubase c'era un altro plugin che permetteva un'analisi di base ma obiettivamente era ormai datato si chiamava multiscope era datato e sicuramente superato chi lavorava in Cubase e aveva bisogno di strumenti di analisi non poteva che utilizzare plugin di terze parti invece anche in questo campo Steinberg ha deciso di arricchire il pacchetto integrato nella DAW e di offrire questa strumentazione ai suoi utenti quindi complessivamente il nostro voto è sicuramente ampiamente positivo abbiamo avuto occasione di usare Cubase 11 per pochi giorni quindi forse ancora un po' presto per tirare delle somme definitive però non abbiamo avuto alcun problema di stabilità anche in progetti mediamente complessi con alcune decine di strumenti virtuali e di effetti caricati continueremo ad utilizzarlo e approfondire le caratteristiche più interessanti e le funzionalità più utili nei tutorial che troverete in futuro sui canali di AudioFader buone produzioni con Cubase e al prossimo articolo su AudioFader o al prossimo video tutorial grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti